Salve a tutti ragazzi, numero numero numero, nono episodio sulla Galacticraft e ragazzi dopo essere andato parecchio in miniere come potete rimirare dal di qui il numero dei diamanti è cambiato, perché? perché mi sono fatto 6 fornace elettriche più un altro electric compressor ed tutti questi qui hanno voluto un diamante a cranio poi mi sono fatto il portabile oil extractor praticamente una trivella per estrarre il petrolio che si fa in questo modo e mi sono dovuto fare due contenitori per liquido che si fanno in questo modo compressed steel, compressed tin e questo che si fa di compressed tin quindi mi è servito tanto tin, il tin nello stagno perché due? perché nel frattempo ho anche ferrato la raffineria il quale vuole un contenitore in entrata e un contenitore in uscita oggi non ho intenzione di farvi vedere nessuna sminierata anche perché ne ho a basta invece ho intenzione di costruire un laboratorio qui a fianco a casa se i creeper me lo permetteranno ok me lo permettono di costruire qui magari qui magari chiudendo questa pozza un bel laboratorio con uno forse due pannelli sul soffitto e sotto tutta la roba per costruire ma dovrà non avere cavie che girano per casa ma avere solamente la roba nel laboratorio quindi visto che siamo in in vista di lavori edili Bob ci sei? esatto quindi partiamo quindi chiudiamo bellamente questo questo spazio perfetto 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 ora la terra non ci serve ci servirà tanta pietra perché si ho deciso di farla in pietra questo via ce lo mettiamo qui allora mettiamoci in parallelo uno due tre quattro cinque primo mattone perfetto di qua ce lo facciamo qui stesso livello secondo mattone controlliamo un po' uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici tredici quindi uno due tre quattro uno due tre quattro cinque sei poi ci sarà la porta e adesso possiamo incominciare a tirare su il tutto ok fate la cuccia fate la cuccia o rompete di coglioni altrimenti vi rimando il creeper dentro cosa che è già successo alle vostre colleghe del regino 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 a fianco non riuscito a dirlo allora poi dunque il pavimento lo farò leggermente rialzato quindi ci vorrà anche la cosa perciò se il pavimento verrà qui uno due tre se io sono qui tre ci vuole anche il quarto che verrà fatto poi ciao tu chi sei? cosa ci fai qui? e soprattutto perché non sei nel regino con le altre? continuiamo completiamo l'ossatura della nostra della nostra del nostro e laboratorio oh perfetto buttiamo giù un'idea di movimento perfetto mi serve pietra sta venendo la notte direi che è il momento di andare a letto dopo aver preso la pietra vediamo qua completare il nostro laburino ma mi sembrava che piazza sacca da più lontano invece deve proprio stargli vicino perfetto perfetto poi allora ci sono un paio di cosette per facilitare il tutto innanzitutto allora si può fare con questo? si ah di oggi è dietro poi allora ferro e basta questo dentro questo dentro questo dentro anche se non è la sua chest e questo dentro poi allora tu vieni qua e tu no devo metterla dall'esterno quindi qui chiaramente però non si apre così quindi viene fatto un pulsante immaginavo ok allora piccola modifica da portare ho capito cosa che non va ecco fatto poi perfetto no ma dai sì e poi perfetto mangiamo e torniamo tranquillamente al lavoro però mi è già venuta in mente un'altra cosa che può che sarà sicuramente utile cioè i vetri i vetri per i quali ho pochissima sabbia quindi scusate pecorelle ma si tolga si levi dagli coglioni perfetto uno due tre e qui ci verrà il tetto c'è già il primo strato di tetto allora cominciamo a fare il tetto ah no coglione 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 ho detto sono rivolto senza pietra ci credo anch'io qui ok e andiamo a vedere i nostri amici vetri se si sono cotti nel frattempo i nostri piantagioni crescono senza problemi senza remore 41 vetri basteranno chiediamolo all'ingegner cane quanti vetri serviranno ingegner cane 800 milioni cifre che fanno girare la terra abbastanza in questo caso certo esatto era quello che pensavo anch'io ci siamo quasi ragazzi ci siamo quasi quasi completata questa mega struttura romba stavano e sta anche vedendo notte porca voia via 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 scava 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 via 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 fuga 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 mucca porca c'è imprimato i coglioni lei di corsa questo dentro questo dentro questo dentro piccolo il fornimento alle due fornaci qui sotto Siamo sicuri che vanno avanti Noi ci facciamo una bella Dormitina Ok Signori Abbiamo completato il primo step E ora passeremo al secondo step Poi allora Visto che Voglio venire fuori Un pochino prima Sarà qui Quindi Serve un blocco di pietra Tac 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 E tac Poi qui Va aperto Scale Anche qua va aperto Scale Ne servono altre Come immaginavo Come immaginavo E siamo in cima Perfetto Poi Poi Togliamo Togliamo Queste cose Anche se in te ci starebbero anche bene Ma si lasciamoli Perfetto 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 Olè Poi allora In cima Servono Tante fence Ma com'era Ma com'era Perché dopo Perché dopo ho finito la pietra Ok Ok Cato proprio che ne avanzeranno Olè 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 Illuminiamo un po' la zona Onde evitare che spawni di tutto Ok Ok Si Si Queste le ho messe abbastanza a cazzo Ok Dovremmo aver Illuminato Tutto Si Questa possiamo anche Toglierla Per riposizionarla Qua dietro E adesso Dobbiamo fare Il Trasferimento Di tutte le nostre cose Dal di là Di qua Le cose importanti E allora Inizierei da un lato Così da non creare Pannello Poi Lascerei Un cubo di distanza Moduli E lì Colleghiamo Pannello Lo Abilitiamo Il sole Sta calando Dunque Appena finito qui Vediamo se Si però sono collegati Quindi Vediamo se sono collegati Dalla parte giusta Appena qui si completa Solo che il sole sta Andando giù Quasi quasi dopo Forse ne faccio un secondo E altri moduli Di stoccaggio Dai Ok Ok Porca boia Scordato la chiave inglese Perdiamo un momento Buono Dopo ci tocca Di nuovo Tornare a letto Apra Custode Apra Con calma Si attiene tutto Ok Ora si stanno caricando Si Allora Poi dopo Come l'impressione che dovrò fare altri cavi Molti altri cavi Tanti altri cavi Perciò andiamo a fare Alluminio Lana Perfetto Direi che con questi dovremmo Andare abbastanza bene Anche perché questo è per il futuro Nel caso debba incrementare Parecchio la produzione Abbiamo già Un buonissimo punto di appoggio L'unica cosa che spero È che questo cavo regga Perché Bisogna sperare che regga bene Il carico Si Per l'illuminazione Mi dovrò arrangiare In un altro modo Qualche bella lampada di redstone Magari a pavimento Ok Allora Cominciamo da questo lato Con le fornace elettriche 1 2 3 4 5 E 6 E da quest'altro Aspetta Circuit Fabricator Sta qui Si E da questo lato Metterei Circuit Fabricator No La raffineria Circuit Fabricator E i due compressori Perfetto Ora Vediamo Alimentiamoli Alimentiamoli Perfetto Perfetto E poi 1 2 3 4 5 6 E in più Farei Qui Dove sei Mettere il call generator Nel caso debba mancare La corrente Dai nostri moduli Vari ed eventuali Dal nostro pannello Si potrà sempre Ricorrere al call generator Per Tutto quello che serve Poi Bene ragazzi Trasferimento Ultimato E direi Come avevo detto Che qua sopra I nostri amici Ci stanno Lentamente Caricando Quindi direi Di fare Un altro Pannello Solare E Altri Due Moduli Di stoccaggio No Solo un altro Facciamo Due pannelli Tre moduli Perfetto Ragazzi Con I nostri Pannelli Che entrambi Funzionano A dovere I moduli Di stoccaggio Che si stanno Lentamente Riempiendo Tutti Vero Tutti Stai riempiendo Si bravo Slime Che Rimbalzano Qua sotto Pequery Moop Che è il mondo Che non si carica Che ci danno Ci dicono Ciao E io vi dico Arrivederci al prossimo Video Lasciate commenti In descrizione Speciale In merito L'industrial craft Se volete Che la metta E noi ci vediamo Al prossimo video Decima puntata Ciao